Una voce, la via della conoscenza attraverso Attilio M, vocedellacuiete.vaianocchiocciolagmail.com La vostra mente è costantemente tesa ad ampliarsi, cioè a controllare più spazi e più situazioni ed è continuamente all'opera per riordinare il cosiddetto caos esterno. L'ordine vi serve a stabilire se gli altri, o se la vita, o se la società, o se il destino, o se il funzionare del vostro corpo vi tornano o non vi tornano, dato che tutto dovrebbe tornarvi. Ed anche se le cose non vi tornano, avete l'abilità di farvele tornare, accontentandovi. Però vi accontentate solo se non potete farne a meno, mentre, per la maggior parte dei casi, cercate di stabilire un diverso ordine interno, più funzionale, che tenga conto dei nuovi vincoli sopraggiunti. Il vostro sistema d'ordine si traduce in una vostra reazione automatica agli eventi, in quanto avete stabilito a priori come dovete agire per far fronte al disagio generato dal guazzabuglio del mondo esterno, che temete di non riuscire a controllare. Le vostre priorità e l'ordine da ristabilire definiscono anche come dovrebbero essere gli altri, il mondo e la vita. Ma non fanno altro che motivare gli insuccessi che vi attribuite, perché la volontà di ricreare un ordine parte proprio dall'aver formulato il concetto di guazzabuglio. Ordine e guazzabuglio sono due potenti contrapposizioni attraverso cui la vostra mente vi imprigiona. Non si ricerca un ordine quando si consacra la vita a se stessa, il quotidiano a se stesso e gli altri a se stessi. L'abitudine di contrapporre ordine a guazzabuglio è un processo tipico della vostra mente. Ordine e guazzabuglio sono etichette, ma danno fiato al bisogno di ricomporre dentro di voi le sollecitazioni che vi giungono dalla vita e che vi appaiono minacciose, mentre i vostri oggetti mentali vi rassicurano rispetto alle imprevedibilità che scontrandosi con i filtri del vostro sistema d'ordine vi mettono in agitazione. A quel punto, dopo l'eccitazione, parte in voi un processo automatico per ricreare o riaggiustare l'ordine mentale e ristabilire quei principi e quelle priorità per difendervi dall'imprevisto. E poiché il vostro sistema d'ordine si basa sul passato, sul già vissuto, quel che è nuovo è inaspettato e spesso lo vedete come un caos da riaggiustare o a cui riadattarvi. E' quindi possibile dire che il vostro processo si basa sul trasformare il presente in passato.